La stagione propizia ai voli transatlantici si è aperta all'aeroporto di Floyd Bennett con la preparazione per il volo New York-Roma dei fratelli Monteverde, giovani aviatori portoghesi al cui tentativo però non ha riso il successo. È noto infatti che alla partenza l'apparecchio è precipitato capovolgendosi ai margini dell'aeroporto mentre gli aviatori se la sono cavata con alcune ferite superficiali.